Tavola Rossignolangus, ideata e concepita per un utilizzo all-mountain, offre un camber che garantisce ottima tenuta grazie anche al Magtech inserito nella parte centrale della tavola. Su punta e coda è presente un rocker che offre un'ottima galleggiabilità. La particolarità di questa tavola è la presenza di questa costruzione roller con delle punte fatte grosso modo a cucchiaio che favoriscono la galleggiabilità e offrono un'angolatura di carvatura maggiore. Il setup ideale di questa tavola sarebbe montarla con un attacco dal flex intermedio adatto ad un utilizzo all-mountain. La tavola Rossignolangus è dedicata a un utente cui piace fare curve in pista ma è sempre alla ricerca della neve fresca. Al prossimo episodio